Bene amici, giornata super ricca e si torna alla nostra rassegna notizie quotidiana e ce n'è. Finalmente infatti spunta più di qualche data ufficiale per i primi pagamenti di settembre, corredata anche da una notizia ottima. Caos invece sulle REM seconda rata e poi parla Draghi, parla parecchio e arriva anche una bella sberla all'Inps dalla Corte di Giustizia Europea che la condanna a cacciare il grano. Insomma, iniziamo, io sono Mr. Lul, sigla prima, mi raccomando, un bel like per sostenere il video e il canale, l'iscrizione col campanone per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti e se volete aiutare il canale c'è anche il tasto abbonamentone. Adesso sì, sigla! E andiamo belli, tosti e lesti. Eccole qui le prime date per la NASPI di settembre 8, 9, 13. Verificate la vostra nel fascicolo e soprattutto verificate finalmente come non vi sia più traccia del taglio del decalage del 3%. È stata una gestazione parecchio lunga, ma tant'è. Ora però, sempre sulla NASPI, attendiamo gli ANF, gli assegni familiari, e poi il trattamento integrativo, però questo sempre verso il 20 del mese. Caos, invece, sul REM, reddito di emergenza, o meglio, calma piatta. Ho parlato, infatti, anche con il dirigente IMSS, che però non mi ha saputo dare conferme tempistiche date precise, ma diciamo che le disposizioni di chi attende ancora la rata di competenza giugno, la prima usciranno nei prossimi giorni, sapete che è una formula molto amata da IMSS, così come quelle di chi attende la seconda rata di competenza luglio, con disposizioni anche qui per metà mese. Quello che è evidente a tutti è che non è stata minimamente rispettata la promessa o l'intenzione, che era stata riferita anche a me medesimo, di gestire questi pagamenti con le stesse cadenze ravvicinate con cui è stato gestito il REM, sostegni 1. Poi, 7.30, credito IMSS, ci sono dei ritardi, lo sapete, l'ha comunicato anche IMSS, però sono uscite alcune date per il 9 di settembre, quindi ringrazio chi mi ha mandato la mail, voi verificate e fatemi sempre sapere nei commenti se siete ancora in attesa. A proposito sempre di soldi, una bella sberlona meritata da IMSS che se la prende dalla Corte di Giustizia Europea. L'istituto dovrà erogare i sussidi di natalità e maternità anche a quei cittadini non in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, quindi anche a coloro che possiedono un titolo di soggiorno tra virgolette normale. E poi lo scoop, diciamo, della giornata è che poco fa in conferenza stampa ha parlato il Premier Draghi. Primo Consiglio dei Ministri e prima conferenza post, diciamo, pausa estiva. E, caspita, ha detto davvero parecchio. Vi invito a guardare non tanto la conferenza integrale, ma soprattutto la parte del domande e risposte dove il Premier in prima persona ha dichiarato, e cito, sì all'estensione del Green Pass, quindi in questo autunno a breve, sì all'obbligo vaccinale e poi la partenza di tutti i tavoli di riforma, a stretto giro, fisco, penale, politiche attive e pensioni. Quindi una tabella di marcia super serrata e invece per ora nessun accenno a nuovi bonus, aiuti, decreti emergenziali. Se ne discuterà sicuramente più avanti prossimamente, quindi me lo chiedete in tanti. Non so dirvi se ci saranno nuovi bonus e non so dirvi se ci sarà nuovo REM. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Sono certo che le parole del Premier andranno a scatenare soprattutto certa stampa nelle prossime ore, quindi ditemi la vostra. E poi, visto che si va verso una stagione di grandi e importanti riforme, mi raccomando, iscrivetevi con la campanella, così non perdete nessuno dei prossimi aggiornamenti. Un bel like per sostenere questo video e anche il canale. E se poi volete aiutare ancora di più il canale, beh, c'è anche il tasto abbonamentone. Vi ringrazio, buona serata da Mr. Rule. Ciao.